Gli accordi di Payphone, brano molto semplice, quattro accordi C ed 9, G maggiore, Mi minore, sullo stesso pattern del C ed 9 quindi dito mignolo, terzo tasto, prima corda, dito anulare, terzo tasto, seconda corda e un Re suspended four, cioè un Re senza l'uso del dito medio sul secondo tasto, prima corda quindi è un qualcosa di questo tipo E via dicendo Il ritornello è esattamente la stessa cosa, stessi accordi quindi puoi tranquillamente trovartelo da solo o da sola La ragione per cui ho fatto questo video è perché alcune persone arrivano su Blog Musica, che è il mio blog, ogni giorno cercando gli accordi di questa canzone ma quello che poi vanno a trovare è la cover che io ho fatto di questo brano qualche tempo fa e metterò il link qui sotto e quindi dal momento che non si riusciva a trovare un tutorial in italiano su questo brano, almeno io l'ho trovato su YouTube ho deciso di farlo io E questo è quanto, ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti